Benvenuti a questa pilola formativa sul bilancio d'esercizio. Io sono Nicolaia e insieme al mio collega Claudio vi racconteremo che cos'è il bilancio d'esercizio e come è regolato. Chi sono i soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio? Quali sono le diverse tipologie e come e quando si deposita nel registro delle imprese? Il bilancio d'esercizio è il documento di sintesi dell'attività di gestione di un'impresa ed ha la funzione di rappresentare i risultati economici e patrimoniali della gestione in un determinato periodo di tempo. Infatti il bilancio deve essere redatto annualmente e deve essere redatto secondo i principi della chiarezza, ossia deve essere comprensibile a tutti e deve essere trasparente, secondo il principio della veridicità rispetto a quelle che sono le quantità oggettive e alla credibilità delle stime. Ed infine secondo il principio della correttezza rispetto alle norme della legge, alle norme amministrative e a quelli che sono i principi contabili. Il Codice Civile dedica ampio spazio al bilancio d'esercizio a partire dall'articolo 2423 fino all'articolo 2435 ter e stabilisce innanzitutto che deve essere redatto dagli amministratori della società con periodicità annuale. Deve contenere quattro documenti distinti ma tra loro correlati, lo stato patrimoniale, la situazione economica, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Ma maggiori informazioni su questi documenti ce li fornirà ora Claudio. Ascoltiamolo. Lo stato patrimoniale è la rappresentazione qualitativa e quantitativa del capitale aziendale, capace di mostrare la composizione e la valutazione del complesso di beni che vanno a formare il patrimonio dell'impresa alla fine del periodo amministrativo considerato. Esso viene rappresentato in due sezioni contrapposte, l'attivo, gli impieghi in essere, e il passivo, le fonti in essere, suddivise a loro volta rispettivamente in 4 e 5 macroclassi. Le quattro macroclassi dell'attivo sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti. Lo schema del passivo dello stato patrimoniale è suddiviso in 5 macroclassi, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, debiti, ratei e risconti. Il prospetto del conto economico evidenzia invece il complesso dei costi e dei ricavi sostenuti e conseguiti dall'impresa nel periodo amministrativo considerato. La sua struttura, in passato a sezioni contrapposte, una per i costi e l'altra per i ricavi, si configura oggi in forma scalare, secondo il criterio delle classificazioni per natura, ossia la ragione per la quale tali componenti sono sorti e imputati all'esercizio considerato, e permette di tenere separate le quattro macro-aree della gestione d'impresa, ordinaria, finanziaria, patrimoniale e straordinaria. Il rendiconto finanziario, in passato solo facoltativo, diventa parte integrante del bilancio d'esercizio per quelle società che depositano il bilancio in forma ordinaria. Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti. Il rendiconto finanziario si aggiunge allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. Il rendiconto finanziario ha la funzione di rappresentare i flussi finanziari dell'attività operativa, di investimenti e finanziaria. La loro somma restituisce il flusso di cassa complessivo. Sommando a questo risultato le disponibilità liquide iniziali, si ottiene l'ammontare delle disponibilità liquide finali. La nota integrativa è un documento che fa parte integrante del bilancio d'esercizio. In esso devono essere riportate tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, quali ad esempio l'illustrazione dei criteri contabili adottati, l'indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all'iscrizione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e altre informazioni di varia natura. Grazie Claudio per questi approfondimenti. Vediamo ora quali sono le diverse tipologie di bilancio d'esercizio a seconda del volume d'affari delle imprese. Innanzitutto abbiamo il bilancio in forma ordinaria, che è quello redatto dalle società quotate in borsa. Abbiamo poi il bilancio in forma abbreviata, che viene redatto dalle piccole imprese, ossia da quelle imprese che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni 400 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8 milioni 800 mila euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità. Il bilancio abbreviato è composto dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ossia non è previsto il rendiconto finanziario. Infine vediamo il bilancio delle micro imprese. Sono considerate micro imprese le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità. Il bilancio delle micro imprese può essere composto dunque soltanto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Sia le piccole imprese che le micro imprese possono comunque decidere di depositare il bilancio in forma ordinaria. Quali sono dunque i soggetti tenuti a depositare e a redigere il bilancio d'esercizio? Abbiamo le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le società estere con sede in Italia ed ancora i gruppi europei di interesse economico, i consorsi con qualifica di confidi, le aziende speciali e istituzioni di enti locali, le start-up innovative ed infine le piccole e medie imprese. Ma quando si deposita il bilancio? Innanzitutto i soci devono approvare annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio ed entro 30 giorni dalla data di approvazione l'amministratore provvede al deposito dello stesso presso il registro delle imprese. Ovviamente il deposito della pratica di bilancio presso il registro imprese deve avvenire con una pratica telematica, la quale deve contenere il file di bilancio in formato XBRL, il verbale di approvazione dei soci, nonché tutti gli altri documenti previsti dalla normativa. Tutti questi file devono essere firmati digitalmente, dal legale rappresentante o dal professorista incaricato. Ma facciamoci raccontare da Claudio, che cos'è il bilancio in formato XBRL e che cos'è la tassonomia? Il bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al registro delle imprese. L'XBRL, acronimo di Extensible Business Reporting Language, rappresenta uno standard informatico internazionale che consente di depositare il bilancio al registro delle imprese in formato elaborabile, rendendo i dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell'impresa che li ha depositati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 si è riconosciuto il linguaggio XBRL quale formato obbligatorio per il deposito del bilancio. Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi in cui l'esonero sia espressamente previsto dalla normativa. Il bilancio in formato XBRL viene prodotto dai più comuni software. Anche le Camere di Commercio mettono a disposizione uno strumento di base per la predisposizione del bilancio in formato XBRL, la sua validazione e la sua rappresentazione in formato PDF o HTML. Questo strumento può essere autorizzato per la redazione dei bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata e microimpresa. La tassonomia XBRL dei bilanci di esercizio è una classificazione e descrizione di voci contabili condivise da istituzioni e imprese per favorire una omogenità di valutazione aziendale. La versione della tassonomia da utilizzare per redigere il bilancio in formato XBRL e la relativa documentazione sono disponibili nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e nel sito XBRL Italia. Grazie Claudio per queste spiegazioni. Vediamo ora come è possibile richiedere il bilancio di esercizio. Innanzitutto è possibile richiederlo direttamente agli sportelli della Camera di Commercio, a soggetti abilitati quali ad esempio gli studi di commercialisti o di sbrigopratiche, direttamente sul portale del registro imprese. Inoltre il titolare o il legale rappresentante della propria impresa possono scaricare gratuitamente il proprio bilancio dal cassetto digitale dell'imprenditore sul portale impresa.italia.it. Inoltre prima di richiedere la copia di un bilancio è possibile visualizzare sulla visura storica se un'impresa ha depositato o meno il bilancio. Infatti nella sezione storia delle modifiche è possibile verificare uno se il bilancio è stato depositato e poi possiamo verificare appunto il numero del protocollo del bilancio depositato, la data del deposito depositato e anche la data dell'atto. Perché dunque è importante redigere il bilancio? Non è soltanto un obbligo previsto dalla normativa ma è importante ad esempio per i soci per conoscere il valore delle loro partecipazioni all'interno dell'impresa, è importante per i creditori perché possono valutare il grado di solvibilità della società ed è importante per i futuri finanziatori e investitori che possono valutare la situazione di una società al fine di intraprendere possibili rapporti con l'azienda. Con questo la pillola sul bilancio d'esercizio è conclusa, io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.